Lo vedono mezzo vuoto o mezzo pieno il bicchiere ingabbiato di Piazza Salotto, i pescaresi? La richiesta ai cittadini di pronunciarsi sul destino dell'amaro calice è partita dal candidato sindaco del centrodestra Luigi Albore Mascia che la scorsa assolata domenica ha predisposto un urn non proprio davanti al manufatto, il vice sindaco glielo ha impedito, ma in Piazza Primo Maggio. Lo spirito era quello di verificare che cosa ne pensano i pescaresi perché dall'8 di giugno ci sarà una nuova amministrazione e chi avrà il compito di guidare la città dovrebbe avere anche consapevolezza di quale sia l'idea dei pescaresi sul destino e sul futuro di quello che è alle mie spalle. Le risposte dei cittadini hanno fornito un chiaro orientamento. 346 votanti che non sono pochi, 311 di questi votanti hanno detto che il calice deve essere rimosso. Una minoranza, circa 12, hanno chiesto la rimozione del wine glass e la sostituzione con un calice identico. Una gran parte, circa 129 cittadini hanno detto di volere magari una scultura di cascella che sarebbe stata in effetti la soluzione più adeguata per questa piazza anche per creare una continuità e una contiguità artistica rispetto ad altri monumenti e rispetto al fatto che cascella, del quale proprio ieri si è celebrato il primo anniversario, la prima ricorrenza della morte è stato un artista di fama nazionale ed internazionale di assoluta grandezza. Pescara avrebbe dovuto rivendicare con orgoglio le radici di cascella pescaresi con un'opera di cascella che sarebbe costata anche molto meno del milione e centomila euro di quello che ho alle mie spalle di questa opera di Toyo Ito. E' proprio questa di cascella la soluzione più nelle corde del candidato sindaco ma dopo che avrà vinto le elezioni, spiega, avrà molto da fare con la carta bollata. Tanto c'è un'inchiesta della procura anche su questa vicenda e oltretutto c'è una questione di carattere tecnico sulle responsabilità di questo crash di questa rottura della fontana, della fontana o della scultura come la vogliamo definire di Toyo Ito e quindi la prossima amministrazione avrà la sua gatta da pelare. Oltretutto se mai dovesse essere smaltita quest'opera avrà anche dei costi aggiuntivi per lo smaltimento.